Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Made in Italy non è più da anni solo sinonimo di capi d'abbigliamento, scarpe, formaggi, vini, automobili e moto. Siamo infatti ora divenuti rispettati e osservati con ammirazione anche nelle produzioni di software di audio recording e plug-in. Alcune delle nostre aziende hanno infatti conquistato il mondo dell'audio recording da decenni. Ricordiamo infatti i K Multimedia, Acustica Audio, DSP4, in grado di rivaleggiare senza sfigurare contro colossi del marketing mondiale come Waves, Slate, Sonox, Fab Filter, eccetera eccetera. Ma oltre questi big abbiamo degli sviluppatori meno famosi ma agguerriti e con prodotti super performanti come AudioRity, SK Note, Audio Thing e come ci occuperemo in questo video Hornet Plugins. Hornet Plugins è come dicevo un ecosistema di plug-in in formato VST, Audio Unit e AAX che ci permette di ampliare molto le capacità di ogni tipo di DAW, riuscendo ad essere super competitiva con prezzi iper bassi e prestazioni pro degne di nota. Molto spesso infatti ci serve quel particolare plug-in o tool di analisi che superi le prestazioni di quelli presenti negli stock plug-ins e quindi nella nostra DAW. Sto pensando infatti a tutti gli utenti di Studio One Artist ad esempio che non hanno a disposizione tutti i plug-in presenti nella versione Pro o Studio One Pro che non hanno alcuni plug-in specifici adatti all'analisi del mix e del mastering più dettagliato da aggiungere quindi a quelli della DAW. Ma mi vengono in mente tantissime altre DAW come Cubase, Logic e soprattutto Pro Tools spesso sprovvisto dei plug-in più performanti di quelli stock. Nell'arsenale Hornet troviamo un po' di tutto, compressori, equalizzatori, riverberi, distorsioni, delay, effetti, strumenti di analisi per il mastering ed oltre a questo abbiamo a disposizione un unico installer chiamato Hornet Do-In. Molto utile che una volta collegato al nostro account provvede all'installazione dei plug-in e dei pacchetti acquistati. Lanciamo una delle nostre song di produzione ed iniziamo ad esplorare il plug-in di Hornet. Sto utilizzando la song Aldilà uscita in questi giorni di Gianfranco Mauto e ho aperto la mia sessione di mastering multitraccia per poter utilizzare i plug-in di Hornet all'interno. Alziamo il volume, utilizziamo il sistema CLMS che spiegheremo tra un po' che ci permette di compensare il volume masterizzato rispetto a quello pre-masterizzato. In questo modo possiamo ascoltare esattamente che cosa accade all'interno del nostro master senza essere influenzati dal volume percepito. Ascoltiamo la versione masterizzata, quindi quella che ho lavorato e poi spegniamo tutti i plug-in per sentire le differenze tra le tracce non masterizzate e quelle masterizzate. non masterizzata, masterizzata. Allora adesso come vediamo siamo riusciti a a fare un confronto tra le tracce non masterizzate, quindi quelle esportate dal mix per il mastering e la masterizzazione allo stesso identico volume percepito. Questo grazie ad un sistema di Hornet che ho trovato fantastico e che si chiama CLMS, composto da due plug-in, uno chiamato send ed uno chiamato receiver che troviamo qui. In questo modo possiamo, una volta abilitato, far sì che il volume che noi stiamo ascoltando dopo il master, quindi quello prima del limiter, come vediamo, del receiver, sia auto compensato con quello presente percepito nel volume pre-master. Questo è comodissimo, come dicevo, per poter avere un'idea chiara di quello che sta accadendo nella sezione di mastering senza essere influenzati dall'aumento dei volumi derivati dai plug-in, come ad esempio i compressori, i clipper, eccetera, eccetera. In questo modo, una volta acceso, possiamo capire cosa realmente abbiamo fatto in fase di mastering. Veramente un tool super utile. Andiamo ora invece ad analizzare quello che effettivamente abbiamo fatto durante le fasi. Abbiamo a disposizione una traccia di batteria, come vediamo, dei loop, synth bass, synth, chitarre che non stiamo utilizzando in questo mastering, il pianoforte, tastiere, voce, cori e gli effetti di ambiente che ho registrato durante le fasi di mix e che tengo spesso separati durante il mastering per non farli influenzare dagli equalizzatori e dai compressori, quindi poi poterli riaggiungere alla sessione di mastering senza effetti. Gli effetti appunto di boom e di rise che sono a parte. Oltre ad alcuni effetti che ho aggiunto in questo caso alla voce per ascoltare come funzionano. Partiamo dalla batteria. In questo caso la batteria, come ascolteremo, contiene loop e batteria. Ho applicato il plugin Sibilla Pro. In realtà è un compressore multibanda dedicato esclusivamente alle Sibilanti, quindi dai 4000 Hz in su. Possiamo accendere le varie bande e procedere ad una compressione multibanda proprio relativa alle fasce di frequenze che noi abbiamo selezionato. Questo è estremamente utile perché ci permette, nel mio caso, di ammorbidire leggermente l'arshiness dei piatti, oltre ad utilizzarlo sulla voce per ammorbidire le S e rendere la batteria meno fastidiosa durante le fasi di mix. Anche perché poi utilizzando, vedremo più avanti, il limiter che aumenta il volume del nostro mastering fino a meno 12 per la piattaforma di iTunes, le frequenze alte cominciano e iniziano a diventare più percepite e quindi anche più fastidiose. In questo modo posso controllare molto molto bene le Sibilanti della batteria. A presto! La batteria poi può essere elaborata con, ad esempio, il multi comp, un compressore veramente bello che ho trovato utilissimo e che possiede all'interno diversi algoritmi tipici, per esempio del VCA, del FAT, l'Opto Compressor, l'Espander, la Console 4K, quindi che credo faccia riferimento all'SSL 4000 e il VCA 160. In questo caso abbiamo sei tipi di algoritmi di compressione poi da poter utilizzare sempre all'interno dei controlli che sono appunto comuni a tutti e sei gli algoritmi. Vediamo ad esempio di lavorare con il compressore. Accendiamolo. e inseriamo. Inseriamo. Grazie a tutti. Aggiungiamo un low pass e anche un high pass per evitare di comprimere troppo gli alti. Rimaniamo sulle medie. Usiamo il dry-wet. Possiamo poi controllare la saturazione analogica, quindi incrementandola ancora di più. E lavorare di oversampling. Ovviamente questo fa consumare più processore, ma l'algoritmo diventa molto più preciso. Abbiamo poi a disposizione un input e un output automatici. In questo modo possiamo autocompensare quello che succede all'interno del plugin andando in play. Togliamo la saturazione. Cambiamo compressione. Per dare più ambienti a rullante. Sentiamo nella traccia. A questo potremmo aggiungere ad esempio un'emulazione di nastro. Utilizzando l'ornet tape. In questo caso possiamo scegliere sempre una compensazione di autogain. Scendiamolo. E quindi scegliere le differenti macchine. Scendiamolo. È un'entra... Grazie a tutti. Il nostro bus di batteria come vediamo ha raggiunto un livello ottimale di equalizzazione e di compressione. Andiamo ad esplorare le altre tracce dove ad esempio possiamo trovare il Total EQ impiegato in questo caso sui synth. Total EQ è un equalizzatore graficamente simile all'EQ di Logic e a FabFilter ProQ. Total EQ ha però all'interno alcune caratteristiche uniche ed estremamente utili che vedremo anche poi adesso nelle tracce di bus tra cui l'integrazione dell'algoritmo CLMS che abbiamo visto all'inizio del video e il controllo di saturazione per ogni banda. Accendendo help abbiamo modo di visualizzare le informazioni relative ai comandi quindi ci spiega cosa fa. L'EQ loudness che troviamo qui sotto controlla l'ingresso e l'uscita dell'EQ quindi questi comandi che noi vediamo adesso bloccati. Andiamo lì quindi questi sono i volumi in ingresso e in uscita dell'equalizzatore perché una volta attivato l'EQ loudness viene automaticamente compensata la differenza di volume tra ingresso ed uscita del plugin. È un sistema interessante di monitoring per poter ascoltare cosa accade allo stesso livello di percezione del volume ma non utilizziamolo mentre equalizziamo perché l'algoritmo introduce degli artefatti e potrebbe comunque infastidire l'utilizzo. Abbiamo poi il link IO in questo modo possiamo linkare ingresso e uscita in maniera opposta in questo modo possiamo incrementare il segnale in ingresso ed aumentare quindi il livello di saturazione dell'algoritmo saturation. Ovviamente va poi ricompensata l'uscita e quindi troviamo qui una compensazione automatica. Questo è comodo se vogliamo avere tanta distorsione dal plugin di equalizzazione. Abbiamo poi l'inversione di fase di tutto il plugin e ovviamente l'ascensione e lo spegnimento del circuito analogico che come vediamo modifica le curve proprio perché l'emulazione del circuito analog deriva da un altro plugin di Hornet che vedremo dopo che è analog stage molto bello che introduce distorsione armonica in base ai modelli. Infatti lo P amp è lo stesso poi emulato nell'equalizzatore che abbiamo qui nel Total EQ. Ascoltiamolo qui nella traccia di Synth. Ho limitato un po' l'escursione delle basse sul side. Per utilizzarlo è abbastanza semplice basta cliccare e creare appunto il nostro punto di intervento dell'equalizzatore per poi spostarlo all'interno della banda. I comandi che noi vediamo associati qui al lato ci permettono di controllare il nostro equalizzatore. La forma d'onda che appare dietro è quella che è stata appena analizzata all'interno del plugin e questo è molto utile perché ci ricorda che cosa è accaduto e quindi possiamo puntare e correggere alcune cose direttamente all'interno della forma d'onda visualizzata. Ma vediamo i comandi. Una volta acceso il nostro dot abbiamo la possibilità di scegliere alcuni dei comandi presenti qui in alto. Questi ovviamente cambiano in base al tipo di filtro che noi abbiamo scelto perché nel caso noi utilizzassimo appunto il bell quindi la campanatura abbiamo modo di attivare queste funzioni. Mentre invece lavorando direttamente su altri tipi di filtri abbiamo meno opzioni e quindi meno funzioni. Scegliamo ad esempio un passabasso quindi in questo caso un low pass filter lo scegliamo in maniera da ammorbidire un po' le alte. Come vediamo anche la campanatura si adatta poi facilmente al punto di intervento. E le funzioni che noi abbiamo qua sono l'attivazione della saturazione in questo modo possiamo scegliere di far saturare la campana da zero distorsione a più distorsione l'attivazione del circuito analogico che abbiamo visto qui sotto questo è però riferito a tutto il plugin mentre qua possiamo attivarlo per la singola banda come vediamo poi viene modificata anche la curva il pulsante di listen che ci fa ascoltare soltanto la banda selezionata in questo modo possiamo lavorare facilmente su quello che sta accadendo e il pulsante di bypass quindi il mute della banda possiamo poi scegliere la frequenza qui e la possibilità di lavorare ovviamente in mid e inside quindi in questo caso possiamo ad esempio nel mid puntarlo sul mid e quindi togliere un po' di alte al mid lasciandole però nel side ascoltiamo vediamo l'inazione sul premaster dove in questo caso ho scelto di utilizzare la D quindi rendere la curva dinamica in questo modo posso creare un bouncing sia sui bassi sia sugli alti una tecnica molto usata nella musica dance prima del master e rendere i bassi un po' più movimentati e meno statici come vediamo la linea gialla poi mostra l'intervento della compressione il comando che abbiamo qua è lo slope vediamo della curva quindi possiamo incrementarla o meno andare sui bassi e saturarli sentiamo con essenza sentiamo come si anima il side un equalizzatore veramente fantastico lo consiglio a tutti e che ampia enormemente le funzionalità di tutte le DO come dicevamo arriviamo così al track utility anche questo adesso l'ho puntato sopra il premaster quindi l'uscita premaster ed è un plugin con diversi tipi di utilità all'interno questo in questo caso l'ho utilizzato per aumentare l'espansione stereo soltanto sulle frequenze alte per fare questo ho utilizzato lo splitter di studio one e quindi tutte le frequenze oltre i 750 hertz vengono e spanse nello stereo rispetto al normale posso però utilizzarlo come controllo basic di clipping della traccia o anche un limiter basic da utilizzare per esempio sulle tracce singole di batteria sempre qui all'interno posso invertire i canali scegliere di lavorare in mono su L su R invertire la fase di uno dei due è molto simile al mix tool di studio one ma molto più avanzato nelle funzioni abbiamo inoltre un auto gain reduction quindi una sorta di gain staging automatico che si interfaccia con gli rms o con il picco una volta attivato poi automaticamente lui intercetta il picco e cerca di rimanere nella soglia che noi abbiamo impostato qui sotto la funzione gruppi fa sì che tutte le volte che noi apriamo track utility su diversi canali del nostro mixer possiamo controllarli tutti contemporaneamente se si associati allo stesso gruppo ad esempio gruppo 1 facciamo finta di aver aperto i track utility su tutti i canali ogni volta che apportiamo una modifica ad uno di quelli collegati al gruppo 1 tutti gli altri degli altri canali seguiranno questi comandi molto utile proprio per le situazioni di gain staging abbiamo poi ovviamente dei meter uno per i picchi e uno per gli rms un altro plugin che mi è piaciuto tantissimo è l'SV34EQ un equalizzatore analogico che è utilizzato in questo caso sulle tastiere sentiamo senza veramente interessante e delicato come suono possiamo poi ricompensare qui l'uscita del plugin possiamo correggerli qui dentro oltre questo ho acceso il chorus 60 un ovviamente un circuito derivato dal juno 106 quindi molto molto simile con i due tipi di chorus attivabili e che mi ha permesso di regolare meglio il wide e il dry wet mi permette di ovviamente aggiungere l'effetto al segnale con un po' di saturazione analogica molto molto bello sentiamo senza meno aspro arriviamo così al channel strip in questo caso sul canale della voce channel strip mk3 è un vero e proprio channel strip con doppio controllo dinamico infatti possiamo a differenza di altri channel strip avere a disposizione due compressori uno pre e uno post equalizzatore ed utilizzarli entrambe oltre alle tre bande fisse qui al centro abbiamo gli shelf esterni l'OEI e un controllo automatico di input e output anche in questo caso avviene una sorta di auto compensazione tra ingresso e uscita è un aiuto per chi non è abituato a lavorare continuamente di gain staging tra i plugin quindi Hornet si è concentrata molto anche sull'aiuto ai neofiti che spesso si trovano con grossi problemi di controllo di gain staging all'interno e all'interno e all'esterno del plugin anche in questo caso possiamo aggiungere saturazione analogica l'IS quindi rumori derivati dal circuito analogico e l'oversampling in questo caso HQ quindi high quality per poter sfruttare al meglio l'algoritmo del channel strip in questo caso i compressori hanno quattro tipi di selezione VCA stile SSL fat opto e expander quindi anche in questo caso i due compressori possono essere utilizzati in maniera distinta un plugin eccellente per chi utilizza ad esempio Studio One Artist e non può accedere a tutte le funzioni del Fat Channel di Studio One come dicevo l'analog stage è un altro di quei plugin molto molto belli ascoltiamo sul pianoforte possiamo aggiungere Gain quindi distorsione avere un autogain e scegliere qui il tipo di distorsione transistor o Pamp ascoltiamo a livello di armoniche aggiunte sul synth bass ho utilizzato invece il dynamic EQ questo è un equalizzatore dinamico a banda singola utile nel caso in cui in questo caso io volesse aumentare soltanto il controllo dinamico sui 90 hertz con un gain di 6db e un Q di 2.4 posso poi scegliere la soglia di intervento attraverso la freccia che troviamo qui al lato quindi controllare l'escursione dei 90 hertz o degli 80 subito dopo ho utilizzato Track Shaper Track Shaper è un riassunto del Chalnes Strip MK2 quindi un mix di compressione ed equalizzatore da usare sulle tracce come un tool per colorare quindi ha pochi controlli ma ci permette di lavorare per colorare i nostri suoni sentiamo infatti la presenza del compressore qui al lato troviamo un gain che ci permette di compensare quando siamo sul segnale verde compensato interessante passiamo poi al 3x over che ho utilizzato sui cori accendiamo i cori è un equalizzatore a tre bande con degli slope molto semplici da 24 a 48 ascoltiamolo senza sono riuscito a togliere un po' di boxy quindi un po' di suono sui medio bassi e rendere più intellegibile il corone all'interno dell'arrangiamento quindi del mastering piccole correzioni come vediamo ma molto significative lo sto utilizzando anche sugli effetti in questo modo lo utilizzo per fare più spazio questi sono gli effetti di riverbero togliendo un po' di media ho fatto un po' di spazio in più alla voce la voce fa invece uso dello spaces un plugin molto bello relativo alle room in questo caso sto utilizzando uno shy and dry dai preset quindi una room molto stretta che mi permette di schiarire un po' la voce sul segnale stereo molto molto bello insieme ad un delay che fa da slap back quindi quello che assomiglia di più a un chorus ma è un delay è uno dei preset che uso tantissimo per esempio all'interno dell'event hide mettiamo senza arrivando poi alla sezione vera e propria del mastering quindi in questo caso ho simulato una catena di mastering sto utilizzando il multicomp per fare da piccolo controllo sui picchi come vediamo quindi non è eccessivo l'utilizzo stiamo controllando picchi di meno 3db e utilizzo l'algoritmo console 4k quindi il console 4000 mi piace tantissimo la gestione di questo algoritmo perché mi dà presenza sui bassi e non eccessiva sulle alte facciamo caso a casa e basso e sulla presenza e dai side dopo di questo entro nel nuovissimo limiter di hornet il magnus mk2 che ha doppia funzione di clipper e di limiter ho trovato molto utile e interessante la possibilità di avere anche un'analisi del loops integrato direttamente all'interno del limiter possiamo regolarlo o auto regolarlo attraverso i pulsanti auto in questo modo agirà in base ad un suo algoritmo di ottimizzazione quindi meno esperti possono lavorare direttamente con i pulsanti in auto oppure in questo caso sto utilizzando il limiter proprio per limitare al massimo i picchi ed avere un po' più di gain infatti abbiamo un level di meno 12 perché voglio comunque mantenere meno 12 come rapporto di loops ed avere quindi questo tipo di uscita per la pubblicazione su itunes lavoriamo un po' con il clipper libertà di abbandonare i dogmi e la paura fuori dagli schemi i soliti teoremi al di là la realtà è la parte pura dei nostri pensieri lo smusi tra la terra e desideri che l'unica maniera di salvarsi dallo stereotipo normale e conservare la follia speciale di mantenersi ogni istante fra le convenzioni e l'ipocrisia il clipper è forse troppo aggressivo per i miei gusti quindi cercherò di non utilizzarlo possiamo però avvertire anche in cuffia l'aumento del rumore di fondo proprio inserito dalle varie circuiterie che abbiamo aperto in emulazione nelle tracce è basso ma è percepibile in questo caso ho utilizzato anche il limiter di studio One Pro per intercettare i true peak quindi evitare che si arrivi addirittura ad un true peak sul master arriviamo infine alle LM o ELM 128 MK2 uno dei plugin più belli proposti da Hornet che ci permette di monitorare le tre fasi dei loops all'interno del nostro brano quindi le informazioni relative al volume percepito in short term, integrated e in momentary è uno dei tool più utili in assoluto assenti nella maggior parte delle DO riesce a potenziare i nostri mix ma soprattutto i metering in maniera definitiva l'annosa ricerca di un plugin per l'analisi approfondita dei loops è terminata, secondo me, anche grazie al prezzo di ELM 128 infatti, oltre ai più costosi che noi siamo abituati ad utilizzare non sfigura assolutamente ci dà un'eccellente rappresentazione del volume percepito in maniera corretta e funzionale con ELM possiamo quindi analizzare l'esatto volume percepito dal nostro orecchio in loops, nelle diverse frequenze per un approfondimento di questi concetti vi rimando ai miei prossimi video dove analizzeremo le funzioni di metering sia su questo canale, sia nei prossimi corsi sulla mia piattaforma ProAudioLearning.com l'interfaccia di ELM è ridimensionabile come vediamo da qui sotto quindi adattabile ai nuovi standard di monitor in alta risoluzione ad esempio nella sezione di destra abbiamo la rappresentazione delle curve di analisi nella sezione di sinistra i canali di analisi fino ad arrivare all'analisi dei loops nel segnale 5.1 in questo modo è impostato su stereo ma impostandolo su 5.1 accendiamo tutti i canali di intervento in alto troviamo il periodo di analisi quindi dai 10 secondi fino a un'ora o a un minuto quindi possiamo vedere all'interno ciò che è accaduto nel tempo che abbiamo ascoltato il nostro demo e quindi capire cosa è accaduto in informazioni più dettagliate possiamo aggiustare la scala di visualizzazione quindi scegliere di vedere soltanto la parte più alta dei nostri picchi quindi analizzare la parte più alta o appunto tutto lo spettro la reference che noi abbiamo impostato qua ci permette di analizzare i loops percepiti in base appunto a questo volume di reference in questo caso è 12 loops perché volevo rimanere su questo range e quindi notare e controllare il volume percepito in base a quello a cui io voglio fare riferimento costando questo si sposta ovviamente la linea di riferimento all'interno del nostro analizzatore proprio come fanno gli altri plugin di misura helm 128 analizza i loops nel nostro brano in tre modalità momentary che vediamo qui e possiamo accendere o spegnere ha una finestra di analisi di 400 millisecondi short ha una finestra di analisi di 3 millisecondi e integrated o integrato misura i loops dell'intero brano le curve possono essere accese e spente come vediamo quindi vedere in rapida successione soltanto ciò che ci interessa mentre i meter misurano soltanto i picchi quindi sono dei pic meter che lavorano sul true peak lavorando in oversampling 4x possiamo anche utilizzare la funzione di normalize per poter avere un matching con il reference loops target impostato e quindi capire se stiamo esagerando o meno molto molto utile ed infine il load save che troviamo qui in basso per i preset impostati arriviamo così al coherence meter che troviamo qui in basso il coherence meter è un sistema per verificare se il nostro mix è pronto per la fase di mastering è un meter predisposto per comparare il livello del mix con il livello di reference impostato qui al lato viene prima normalizzato ad un livello dato e inviato ad un filtro che lo modella per renderlo simile appunto al reference dopodiché il plugin comprime e limita il segnale per confrontare il risultato con quello che abbiamo registrato idealmente dovrebbe essere lo stesso se a sinistra selezioniamo ad esempio 6 l'algoritmo si aspetta un range dinamico massimo di 6 di BFS lo stesso se scegliessimo 21 o 12 come nel mio caso e qui abbiamo a lato una correzione che va fatta in base a quello che entra all'interno del coherence meter è un sistema per rilevare se abbiamo aggiunto troppi bassi o pochi bassi l'input qui che troviamo è sempre un peak meter ed è un current meter dove la percentuale dovrebbe rimanere sul 100% prima di essere sicuri di procedere al mastering correction ci indica il livello dinamico che dobbiamo correggere che troviamo qui quando la traccia sarà coerente l'occhio qui dirà verrà illuminato di abbandonare i dogmi e la paura fuori dagli schemi i soliti teoremi al di là la realtà è la parte pura dei nostri pensieri lo smusi tra la terra e desideri quindi ci indica che dobbiamo abbassarci di qualche dB per raggiungere appunto un livello ottimale di 12 loops poi dovremo aggiustare i parametri dei plugin di compressione all'interno del mastering per poter raggiungere o meno 12 o meno 18 o meno 24 per lo streaming di broadcast eccetera eccetera insomma i riferimenti fanno abbiamo quindi un eccellente riferimento dato da helm 128 mk2 oltre questo abbiamo a disposizione un view meter e un lu meter quindi uno per i view e uno per i loops che possiamo utilizzare sempre all'interno delle nostre funzioni di analisi sempre nei pacchetti troviamo a disposizione l'elliptic cue uno strumento molto molto utile che come dice la parola stessa è un filtro ellittico particolarmente adatto alla creazione di un mix quindi di un mastering per il vinile previene infatti le controfasi sui bassi da una certa frequenza in giù in base a uno slope più o meno aggressivo affinché possano risultare monocompatibili e l'auto width controlla l'eventuale eccesso di side che potrebbe essere presente nel master dato da un uso errato degli effetti abbiamo poi a disposizione spikes per il controllo dei transienti quindi perfetto per rinvigorire i transienti ad esempio di un mix o di un master eccessivamente compresso graffio che è un distorsore multibanda molto utile nelle fasi compositive meno forse nel mastering autogain molto molto utile poi all'interno dei mixer per poter creare una sorta di autoleveling sulle voci ad esempio che non siedono correttamente all'interno di una base in questo modo possiamo avere il controllo del volume della voce scriverlo anche nella programmazione di studio one in maniera automatica per poi ritoccarlo successivamente questo per poter bilanciare meglio il volume della voce ad esempio appunto in una base su cui stiamo cantando abbiamo inoltre il dynamics control in grado di controllare dinamicamente cosa accade all'interno di una traccia anche in base alle frequenze quindi medio alti e bassi in questo modo possiamo comprimere con lo stesso compressore diverse bande all'interno del canale stesso e corrosion che in questo momento non stiamo utilizzando e che mi permette di distorcere alcuni dei suoni e renderli ancora più particolari abbiamo a disposizione diversi tipi di onde e di rumori per poter distorcere il nostro segnale fino ad arrivare a un beat crusher vero e proprio abbiamo poi il normalizer che ci aiuta sempre in una funzione di gain staging il 31 un equalizzatore a 31 bande come vediamo in grado anche di auto regolare quello che noi stiamo vedendo all'interno della traccia infatti con la funzione auto eq possiamo creare una sorta di equalizzazione automatica delle risonanze molto carino in alcuni casi aiuta la correzione di alcune risonanze soprattutto se utilizziamo monitoring non in grado di mostrarci correttamente quello che accade nelle frequenze basse o nelle alte oltre alla classica rappresentazione grafica che tanto amo e che mi ricorda appunto gli studi analogici in definitiva Hornet Plugins offre una serie di tools assolutamente indispensabili per alcuni semplici motivi sono leggeri quindi non stressano nessuna CPU adatti quindi anche a computer più vecchi e meno performanti sono eccellenti per le applicazioni di cui a cui fanno riferimento come abbiamo visto non sono chiaramente il super top pro che siamo abituati a vedere nei miei video ma costano una frazione del prezzo di questi ultimi riuscendo benissimo ad essere utilizzati nelle fasi di mix e di mastering alcuni hanno funzioni così utili che non sono presenti né all'interno della Do né all'interno di altri plugin di riferimento molto più costosi vale la pena acquistarli tutti magari uno a settimana uno al mese ma averli tutti perché tornano sempre utili e potenziano tutte le Do su cui li stiamo utilizzando il mio consiglio è innanzitutto di scaricare le versioni free poi iniziare ad acquistare quelli veramente indispensabili per il mix ed il mastering e poi piano piano acquistare anche gli altri è l'investimento definitivo per chi possiede ad esempio Studio One Artist e Pro per gli studenti e solo per gli studenti dei miei corsi ProAudioLearning.com Studio One Artist e Pro sono disponibili alcuni plugin di Hornet in via gratuita e sconti esclusivi per averli tutti a prezzi ancora più bassi un regalo di Hornet a tutti i miei studenti spero che questo tutorial vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito ProAudioLearning.com o JGRStudios.com dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirci su Facebook YouTube e MusicOff se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti iscrivetevi anche al canale Patreon dove ne troverete altri esclusivi ogni mese per il momento è tutto ciao a presto Ciao a presto